Giorgia Meloni a un certo punto che ricordiamo domani e dopodomani sarà il Consiglio europeo dove si dovrà anche decidere su questa guerra in Israele, si dovrà votare una risoluzione, saranno momenti delicati e a un certo punto Giorgia Meloni si è rivolta all'imposizione e ha detto vi vedo nervosi e non capisco perché, tu invece come l'hai vista Meloni, nervosa, tranquilla perché sono passati solo cinque giorni da questa rumorosissima separazione da Gian Bruno? Io vedo nervosa soprattutto lei, fermo restando che ho molto apprezzato quello che ha detto sulla crisi israelo-palestinese perché ha anche detto che i morti civili sono tutti uguali, non c'è un cambio in base al quale per creare indignazione sui morti palestinesi bisogna che siano il decuplo di quelli israeliani o il decuplo di quelli ucraini, no, i morti civili sono tutti uguali e questo l'ho apprezzato, per il resto la vedo molto nervosa negli ultimi giorni, insomma questa sindrome di Calimero ce l'hanno tutti con me perché sono piccolo e nero, non credo che le faccia bene anche perché le obnubila la vista e le impedisce di vedere che l'unico complotto che c'è è quello che ha in casa perché se non avesse nominato Sgarbi sotto segretario ai beni culturali oggi non si ritroverebbe con un casino come quello che abbiamo fatto scoppiare noi del fatto raccontando che Sgarbi continua ad andare in giro a prendere soldi nonostante che non lo possa fare perché è un servitore dello Stato ed è un membro del governo e c'è un dovere di imparzialità della pubblica amministrazione, se avesse detto al suo compagno guarda che essendo io Premier tu non puoi fare un talk di politica dove tutti i giorni ti occupi della tua compagna che fa il Premier, a quest'ora non sarebbe successo quel casino o se magari succedeva non deflagrava con questa gravità nel caso in cui Gian Bruno si occupasse di giardinaggio o di culinaria anziché di politica interna e quindi la tragedia sono le persone più vicine a lei, non è che c'è un complotto di Antonio Ricci, del Gabibbo e dei cattivi, di cattivi non se ne vedono, si vedono un sacco di autogol e di autocomplotti a proposito di questo se posso dire